Ciao a tutti, oggi prepareremo la granita di cocco. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 minuti circa. Gli ingredienti sono latte di cocco congelato a cubetti, zucchero e cubetti di ghiaccio. I guantieri e gli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Andiamo il via alla ricetta. Speriamo lo zucchero nel boccale e lo andiamo a posizionare per 10 secondi a velocità 10. Adesso aggiungiamo i cubetti di ghiaccio, i cubetti di latte di cocco e andiamo a frullare il tutto per 40 secondi a velocità 8. La nostra granita è pronta, andiamo a riempire il bicchiere. Granita al cocco. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.